La mia voglia è grande, è scandalosa ormai, c'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei. Ci faccio le segesi dopo 40 anni. Cosa devo fare? Le segesi. Parla di una donna molto passionale, che avrebbe voglia di avere vicino un uomo e che in quel momento non c'è. E c'è la gatta. Adesso non mi faccia dire cose di cui mi posso pentire. Ma come se l'ha cantata, come di cui si può pentire? Sì, però per me era una gatta. Non ho dato nessun peso a quel doppio senso. Che c'era. E no, c'era questo doppio senso di questa donna che aveva un certo... come si può dire? Non voglio dire parole strane. Stavo per dirne una, mi devo frenare perché ho detto... No, ma non si freni. Non vorrei scivolare proprio adesso. No, no, ma... Sul prurito, no. No.